Non si trova la quadra tra sindacati e società unica di trasporto tua. Ad un anno dalla fusione ancora tensioni e dissapori sulla gestione aziendale, sui tagli effettuati, sulle condizioni dei mezzi, sulle carenze dei controlli. E l'annuncio è quello di due nuovi shopper in programma per il 27 maggio e il 10 giugno nella fascia che va dalle 9 alle 13. Se è vero che il numero dei componenti del CDA è ridotto, perché c'è una sola società in luogo delle tre che c'erano prima. Per quanto riguarda invece i dirigenti, il numero dei dirigenti è rimasto sostanzialmente invariato. Quindi lo stesso numero dei dirigenti che c'erano sommando le tre aziende di trasporto ce li ritroviamo adesso con la società unica di trasporto. E questo è assurdo. Troppe manchevolezze secondo Filt CGL che annovera un taglio di 8 milioni dal governo per mancato obiettivo, evasione tariffaria grave dovuta all'assenza di controlli sui mezzi, mancanza di trasparenza che contravviene agli standard di legge, assenza di autobus e treni per servizi essenziali e l'elenco prosegue per pagine e pagine. Il Consiglio regionale che si riunirà domani non ha portato all'interno dell'ordine del giorno il progetto di legge che dovrebbe disciplinare le regole, ovvero i servizi minimi di trasporto all'interno della Regione Abruzzo. Invece domani ad esempio si parlerà della sorte dell'orso marsicano, però dei servizi minimi di trasporto non se ne parla affatto. E questo con delle conseguenze gravissime che già si sono verificate a partire dall'inizio di maggio e altre conseguenze negative ci saranno a partire da giugno, dove altri vettori in assenza di regole opereranno con la massima libertà e senza nessuna autorizzazione, stabilendo tariffe, stabilendo orari e stabilendo corse. Grazie.